Come un mitaggio, all'Eurospin vedo un tubetto di pasta levagraffi per la carrozzeria a qualche euro, lo lancio nel carrello, fiducioso che mai mi servirà. L'angolo cieco e di lampione si sono lestamente accordati, i miei paraurti aspettavano. Che bello! Mi son detto, posso provare la pasta levagraffi. Puliti povere vitriti con un po' di acqua, spalmata la pasta, con un panno ed olio di gomito ho dato una bella lucidata. I graffi superficiali sono stati rimossi, ma quelli più profondi sono stati solamente attenuati. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto! Grazie per la visione. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!